e che ne pensate chi lo governa oggi può fare un governo per i bagliacci e tutti i stranieri che trascinano tutti con tanta gente che stanno che hanno terra nel luogo a posteriore c'erano pure le soldi a posteriore delle gente nostre, delle gente italiane. Ha visto? Stanno venendo a Napoli ma non si muove in scala che non c'è, questa è la situazione. Il governo è stranieri, che non mi fa questo genere? Questo è il referendum che fa. Non ho, per bere i niti, ci sono sali che non c'erano di fare. Ora il referendum se ne ha detto il governo e si governa ancora così, è giusto o no? Non ci vado proprio, non ci vado proprio, non c'erano delle prime e non manca nulla. Io personalmente voterò no perché tutto non bruglia e si deve capire bene questa situazione perché nessuno ci lo spiega mai. Si deve votare sì o no? No. Per quale motivo? Per quale motivo? Perché ci limita la libertà e si accendono nelle mani di uno solo l'amministrazione del paese. Allora, assolutamente si vota no. E sì. Perché? Perché sì e punto e basta. Ciao. Ma cosa si deve votare? Io ho deciso di appoggiare a Renzo perché noi abbiamo questi cinque stelle, questi quattro sfossati e tutto lo signore Berlusconi che l'ha bleffato fino ad oggi, pur che l'ha già sostenuto. Io da socialista l'ho sostenuto. però sta messo a fare solo la firma in aiole. Non ha fatto mai la politica. Il referendum si deve andare a votare. Lo do, lo do, sempre quello. Non cambiaria? Non cambiaria. Non cambiaria. Non cambiaria la politica. trialista l'ho sostenuto. Seguendo da FG, laância